Canale YouTube di Luigi Gallo La Sicilia, l'ultima regione che studiamo pertanto è la Sicilia che si presenta con tre capi, appunto, come vedete qua uno ad ovest e poi questi due ad est uno a nord-est e l'altro a sud-est per questo motivo la Sicilia ha questo simbolo che è la Trinacria che sta a rispecchiare proprio i tre capi di questa regione abbiamo preso queste slide da degli alunni che le hanno pubblicate e sono pubblicate in rete sono Francesca e Giovanni possiamo incominciare a vedere una cartina della Sicilia ecco, se osserviamo questa cartina, dicevamo dell'isola più vasta d'Italia notiamo che è circondata da piccole isole alcune appartengono anche a degli arcipelaghi per esempio l'arcipelago delle isole Olie o Lipari a nord o delle isole Pelagia a sud di cui fa parte Lampedusa vicina, più vicina, diciamo, rispetto a Lampedusa ecco, attenzione qua, questa cartina non ci fa capire quanto è lontana Lampedusa, ad esempio, dalla Sicilia più vicina alla Sicilia è Pantelleria mentre Malta, che vedete qui sotto, in realtà è uno stato indipendente ecco, dal punto di vista dei mari vedete che a nord troviamo il mar Tirreno a sud il canale di Sicilia, mar di Sicilia che rappresentano quindi quel braccio del mar Mediterraneo che bagna appunto la Sicilia del sud mentre ad est troviamo in generale il Mar Ionio e in particolare dei golfi come il golfo di Catania e il golfo di Noto mentre a sud abbiamo visto il golfo di Gela e a nord il golfo di Castellammare e il golfo di Termini benissimo ecco, approfondiamo un po' il discorso sul territorio ecco, dicevamo che la regione più estesa d'Italia è di forma triangolare bagnata a nord dal mar Tirreno a destra dal mar Ionio e a sud dal mar di Sicilia è separata dall'Italia peninsulare dallo stretto di Messina vediamo se ci sono delle slide sulla orografia cioè sulle montagne sì, ci sono allora procediamo con ordine qui prima c'è una slide sulle coste le coste della Sicilia generalmente sono alte e rocciose sul mar Tirreno mentre sul mar Ionio sono basse nella zona meridionale ecco, qui vedete un esempio di costa settentrionale tirrenica alta e rocciosa però come vedete ci sono poi dei golfi per cui ci sono delle bellissime spiagge comunque anche a nord della Sicilia ecco, stavamo dicendo che ci interessava l'oreografia cioè praticamente parlare delle montagne il territorio infatti della Sicilia è prevalentemente montuoso lungo la costa settentrionale si succedono da est a ovest tre catene montuose che sono una sorta di prolungamento appendice della catena appenninica si tratta dei peloritani che si allungano lungo la costa nord orientale tra lo stretto di Messina e Letna poi ci sono i Nebrodi e le Madonie che occupano la parte tirrenica della Sicilia nord orientale estendendosi per più di 100 km fino al fiume Pollina nelle Madonie si trova il pizzo Carbonara che è alto quasi 2000 metri è la vetta più alta della Sicilia dopo il vulcano Etna che ovviamente è anche la in realtà lui insomma cioè questo vulcano è decisamente più alto anche rispetto al pizzo Carbonara perché il vulcano Etna è alto 3.323 metri sopra il livello del mare è il vulcano attivo più elevato d'Europa i Nebrodi sono costituiti da arenarie e argille la loro forma è morbida e arrotondata nelle Madonie invece ci sono rocce calcaree ed è diffuso il carsismo bene andando invece verso sud sud-est troviamo i Monti Iblei che sono una specie quasi di altopiano un tavolato formato dalla sovrapposizione di diversi strati calcarei il resto dell'isola è formato soprattutto da colline di rocce argillose con scarsa vegetazione e molte frane l'unica zona pianeggiante di rilievo è costituita dalla pianura di Catania detta Piana di Catania ecco quindi che vedete è vero ci sono molte montagne però generalmente si tratta di montagne non molto elevate a parte l'Etna che è tuttora attivo presenta periodicamente notevoli fenomeni eruttivi ecco quindi qui vedete per esempio una fotografia delle eruzioni dell'Etna sono eruzioni spettacolari molti si sono avvicinati anche l'anno scorso un po' troppo diciamo al vulcano perché quando è attivo bisogna rispettarlo perché insomma possono succedere anche episodi molto gravi eh le aree pianeggianti abbiamo parlato della Piana di Catania sono limitate per lo più alle zone litorane quindi vicino alle spiagge sono di origine alluvionale le aree pianeggianti la parte occidentale dell'isola presenta un aspetto ondulato disordinato intervallato da larghe vallate da estesi altipiani sono andato a visitare la Sicilia e ho visto questa zona appunto dove ci sono queste vallate altipiani questa zona così irregolare ho visitato il Belice dove ahimè c'era stato un terremoto alcuni decenni fa e ho visitato il Tempio di Segesta che è proprio in mezzo a queste montagne e colline della zona diciamo occidentale dell'isola ecco i laghi molti laghi della Sicilia che sono in genere piccoli insomma non di vaste dimensioni sono artificiali e quindi sono conseguenza della costruzione di dighe ecco i fiumi parliamo un po' dei fiumi i fiumi hanno un regime torrentizio hanno portate irregolari con piene invernali e lunghi periodi di secca i principali sono il Simeto l'Alcantara la Napo Cassibile abbastanza famoso perché nei pressi di questo fiume è stato firmato l'armistizio tra l'Italia e gli alleati quindi gli angloamericani e il Tellaro sul versante ionico il Torto e il Salonardo tributano al Tirreno quindi intendo dire che insomma sfociano nel mar Tirreno mentre il Belice è questo fiume che attraversa diciamo queste montagne occidentali della Sicilia il Platani e il Salso si gettano invece nel mare di Sicilia quindi a sud il clima il clima della Sicilia di tipo mediterraneo con estati calde e asciutte e inverni miti e piovosi la distanza dal mare e l'altitudine determinano variazioni locali caratterizzate da maggiore continentalità possiamo chiamarlo quindi semicontinentale il clima proprio all'interno dove ci sono le montagne ma prevale decisamente il clima insomma mediterraneo benissimo questo riguardo al clima parliamo adesso dell'agricoltura scusate dell'economia in generale ecco l'agricoltura rimane tradizionalmente l'attività prevalente dell'isola nonostante le numerose difficoltà dovute alla natura del suolo ricordate prima abbiamo parlato per esempio delle frane dell'irregolarità del suolo questo rende anche difficili le infrastrutture diciamo certe volte le strade è capitato a me quando sono andato a visitare la Sicilia di vedere che ci sono continuamente lavori pubblici su queste strade pertanto è sempre difficoltoso passare da una parte all'altra della Sicilia proprio perché diciamo c'è questo terreno irregolare è anche soggetto certe volte a smottamenti e degrado di vario genere indubbiamente ci sarà anche diciamo così c'è di mezzo anche la speculazione sappiamo che la speculazione edilizia soprattutto dovuta alla presenza capillare ahimè delle organizzazioni malavitose soprattutto della mafia rende piuttosto difficile comunque l'economia di questa regione quindi eh sì è vero anche tu hai hai visitato la Sicilia alcune non si eh esatto sì 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 hai hai verificato questa cosa che ci sono delle strade veramente molto dissestate eh in Sicilia e certe volte per fare un tratto di strada che magari in Lombardia eh ci richiederebbe non so una mezz'ora al massimo di cammino o di traffico se non ci sono file e code ovviamente là invece ci si mettono le ore proprio perché è così è piuttosto complicata diciamo eh la circolazione stradale in Sicilia stavamo parlando però adesso dell'agricoltura ecco ovviamente storicamente c'è stato il latifondo in Sicilia intendo dire che c'erano i baroni o comunque diciamo dei nobili che erano i padroni insomma di questi terreni no poi anche con il regno d'Italia le cose sono leggermente cambiate ma non sempre sono cambiate in meglio nel senso che è vero non c'è più quella classe nobiliare no però continua ad esserci il latifondo e continua ad esserci grandi disuguaglianze sociali per esempio in Sicilia ecco stavamo dicendo poi tutti i problemi abbiamo già parlato di alcune problematiche importanti ad esempio le comunicazioni ad esempio la speculazione c'è anche la scarsità d'acqua la mancanza di adeguate strutture irrigue quindi grossi problemi non è potabile sì sì quindi ci sono grossi problemi come stavate raccontando voi l'acqua potabile manca manca l'acqua mancano le fognature quindi ci sono sicuramente delle grosse problematiche comunque malgrado ciò devo dire che il terreno della Sicilia è comunque generoso e si producono frumento agrumi orzo ortaggi mandorle nocciole olive uva e nonché vabbè insomma pistacchi e tantissimi altri eh dopo li vedremo insomma tantissimi altri prodotti pensate appunto gli agrumi che sono esportati poi in tutta Italia e non solo ancora modesto per quanto in espansione il contributo dell'allevamento a differenza della Sardegna dove abbiamo visto che l'allevamento è quasi predominante mentre è considerevole l'importanza della pesca la pesca del tonno le sardine i pesce spada per esempio proprio quando siamo andati appunto a Castellammare nei pressi di questa città siamo andati a visitare una ex tonnara che adesso vabbè è in disuso e quindi ci hanno fatto vedere come si lavorava il tonno è chiaro che adesso anche si pescava intendo dire il tonno anche la pesca del tonno è diventata quasi a livello industriale intensivo e quindi addirittura anche ci sono dei problemi di eccessivo sfruttamento di questi beni diciamo insomma della pesca insomma eccessiva invasività intendo dire della pesca e quindi problematiche anche da questo punto di vista ecco stavo dicendo le arance e i pistacchi ho fatto una slide proprio su su questo perché l'agricoltura è specializzata soprattutto nella produzione di agrumi viti e quindi diciamo vini anche buonissimi ulivi l'olio frutta oltre al grano gli ortaggi di cui abbiamo già parlato le mandorle e i pistacchi come il famoso pistacchio verde di Bronte che gode di una protezione la cosiddetta denominazione di origine protetta perché ha delle caratteristiche organolettiche ottime diciamo ecco da sottosuolo si estraggono il petrolio e il metano nei pressi di Gela e Ragusa l'asfalto la salgemma i sali potassici nonché il sale marino lungo le coste le industrie tipiche ecco perché abbiamo detto che in realtà il settore secondario non è molto sviluppato in Sicilia sono soprattutto quelle del settore alimentare conserviero comunque ci sono anche alcune industrie nel campo del tessile meccanico del legno dei materiali da costruzione per l'edilizia chimico di origine recente ma già ben sviluppato attivo l'artigianato nei settori del legno delle ceramiche delle terracotte e delle filigrane quando siamo andati a fare il nostro viaggio di istruzione in Sicilia abbiamo visto anche una centrale di energia solare infatti è stata molto interessante questa visita perché ci hanno fatto vedere questi pannelli solari immensi enormi che producono energia elettrica e che rappresentano quindi qualcosa di virtuoso perché si tratta di un'energia rinnovabile quella del sole insomma non è un'energia come dire che una volta consumata insomma non è un'energia limitata ma fino a quando c'è questo astro possiamo godere di questa energia ecco abbiamo già parlato dell'artigianato l'artigianato nel settore del legno delle ceramiche delle terracotte e delle filigrane e qui abbiamo alcune delle famose ceramiche siciliane ecco la principale risorsa di questa regione è il turismo favorito dalla varietà delle coste dal mare pulito dallo spettacolo dell'Etna e delle numerose testimonianze artistiche della storia millenaria della Sicilia infatti abbiamo una grande ricchezza sia sulla costa occidentale quindi ad esempio vi consiglio di andare a visitare Palermo Trapani Erice una bellissima cittadina che si trova a 700 metri sul livello del mare oppure appunto andare a vedere Mozia l'isola di Mozia che si trova sempre in questa zona oppure Monreale Cefalù dove ci sono delle chiese stupende medievali romaniche con dei mosaici straordinari per non parlare appunto della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni della Zita a Palermo Palermo anche con la cattedrale che dove ci sono testimonianze per esempio anche le tombe del passaggio di alcune dinastie per esempio quella degli Svevi poi ci sono prima c'erano stati Normanni poi Svevi Angioini Aragonesi eccetera c'è molta emigrazione giusto dalla Sicilia c'è molta emigrazione recentemente sono emigrati ad esempio dei docenti e dei dirigenti scolastici anche dalla Sicilia sì emigrazione interna per l'industria intendi dire bravissima infatti negli anni del boom economico fine anni 50 inizio anni 60 il cosiddetto boom economico ma anche nei decenni immediatamente precedenti e soprattutto seguenti si è verificata una emigrazione interna dalla Sicilia verso il nord quindi verso Torino e Piemonte o verso Lombardia Milano adesso vi stavo facendo l'esempio dei docenti alcuni sono anche fra di noi alcuni docenti che vengono dalla Sicilia e quindi continua a esserci una certa emigrazione interna certamente come dire i siciliani sono molto affezionati alla loro terra e quindi cercano di non lasciarla perché è una terra stupenda stavo parlando prima della costa occidentale ma non dobbiamo dimenticare la costa orientale la quale presenta dei gioielli straordinari come appunto Taormina Giardini Naxos Catania Siracusa con testimonianze storiche che vanno dalla colonizzazione greca i greci hanno colonizzato queste zone queste regioni e ci sono dei bellissimi teatri appunto a Taormina e a Siracusa per non parlare poi di Agrigento nei pressi di Agrigento c'è la Valle dei Templi nel centro nel cuore della Sicilia c'è invece la Villa Armerina che è una delle ville romane meglio conservate che presenta degli affreschi straordinari qui vedete tutte quante le province della Sicilia che ripeto sono tutte ricche insomma di storia e quindi anche di testimonianze artistiche assolutamente da vedere da visitare e da conoscere quindi certamente il turismo ha un ruolo qui adesso purtroppo non possiamo parlare di tutte quante le città della Sicilia però ricordiamo almeno Palermo quinta città d'Italia per popolazione infatti a Palermo qui almeno i dati del 2014 ci dicono che vivevano 678 mila persone si tratta pertanto della seconda città del sud dopo Napoli in Sicilia abbiamo una popolazione di circa 5 milioni di abitanti che possiede come vi stavo spiegando molte basiliche monumenti e palazzi assolutamente da visitare anche ci sono testimonianze del passaggio degli inglesi che erano molto affezionati a questa zona della Sicilia la zona occidentale mentre vale la pena di assolutamente comunque di visitare l'Etna e la zona di Catania Agrigento con la valle dei templi è uno dei maggiori centri dell'archeologia sorge su due colli da un lato si può ammirare il mare dall'altra si può guardare la valle dei templi Trapani la città più industrializzata della parte occidentale dell'isola Siracusa è una piccola città ma ricca di testimonianze del suo passato di colonia greca come ad esempio le grotte cosiddette delle Latumie dove c'è l'orecchio di Dioniso c'è una grotta particolarissima dove risuona un eco molto vasto e secondo la tradizione il tiranno Dioniso di Siracusa appunto era in grado di sentire quello che dicevano quelli che erano imprigionati in queste grotte proprio per l'acustica particolare Messina che dà il nome allo stretto che si trova di fronte alla costa della Calabria una città tormentata agli inizi del novecento da un tremendo terremoto e quindi si può dire ricostruita da capo Catania piena di edifici in stile barocco nella città di Catania si vede si capisce molto bene la vicinanza del vulcano Etna e infatti ci sono sia diciamo dei colori particolari di questa città che sono dovuti anche alle ceneri ai gas vapori che spesso sprigionano dal vulcano sia certe volte anche troviamo i resti di eruzioni che sono arrivate hanno portato la lava insomma fino alla città di Catania una in particolar modo che è accaduta intorno al 1600 ha un po' sconvolto anche la planimetria possiamo dire non so come dire gli strati la stratificazione meglio della città di Catania è comunque molto suggestiva vi ripeto da visitare ovviamente nei pressi di Catania ci sono anche i luoghi che sono descritti nei testi di Giovanni Verga molti per esempio hanno come ambientazione la piana di Catania di cui stavamo parlando prima quindi questa zona agricola oppure le città sulla costa come Acitrezza che invece rappresenta l'ambientazione del romanzo dei Malavoglia non dimentichiamo anche il fatto che Luigi Pirandello è stato un grandissimo scrittore siciliano e Andrea Camilleri che è morto recentemente che cosa a vedere ecco qui potete per esempio capire la suggestione di Taormina ci troviamo provate a immaginare ci troviamo come dire sopra il teatro greco di Taormina e possiamo vedere sullo sfondo sia il cono del vulcano Etna che ovviamente anche d'inverno si copre di neve da una parte è verso la sinistra sempre in fondo si intravede la costa il mare bellissimo con Giardini Naxos che è esattamente proprio sotto la città di Taormina è un teatro famoso in tutto il mondo tra l'altro utilizzato fanno dei festival io ho fatto il bagno a Giardini Naxos hai fatto il bagno costruito dai greci nel terzo secolo avanti cristo venne ristrutturato dai romani in epoca imperiale poteva ospitare fino a 5.000 persone ma come vi ho già detto prima anche oggi si svolgono rappresentazioni teatrali e musicali anche a Siracusa il teatro di Siracusa è utilizzato per far rivivere le tragedie greche e appunto l'ultima cosa che ha fatto Camilleri ecco prima di lasciarci è stato appunto uno spettacolo teatrale al teatro di Siracusa dedicato al personaggio di Tiresia da vedere dicevamo anche la valle dei templi di Agrigento l'ora ideale è quella del tramonto quando le rovine assumono riflessi rossi nella valle si ammirano i resti di una decina di templi eretti nel periodo della Magna Grecia cosa mangiare c'è solo l'imbarazzo della scelta partendo dai primi la pasta con le sarde preparata con spaghetti o bucatini conditi con sarde insaporite con acciughe capperi finocchio selvatico pepe, pinoli uvetta, cipolla tritata poi passiamo ai contorni di cui è famosissima la caponata un contorno di verdure un insieme di melenzane sedano, olive pomodori, capperi mescolati con aceto i papalusci le lumache di mare queste non le ancora assaggiate grazie per il suggerimento culinario è rinomata l'ospitalità dei siciliani anche a me è capitato di essere ospitato dai siciliani i quali siciliani non conoscono limiti quando si parla di mangiare sono molto generosi e quindi continuano a offrirti cose tra l'altro straordinarie da mangiare e non si può rifiutare assolutamente tra i dolci più famosi cannoli la cassata vini famosi nel mondo sono il marsala e il passito di pantelleria ecco infatti scusate i miei amici siciliani alla fine mi tranquillizzavano non ti preoccupare digerirai tutto prendi questo bel bicchiere di passito di pantelleria e vedrai che saprai potrai potrai digerire tutto anche il marsala infatti no no l'abbiamo ricordato il marsala qui alcune foto di queste prelibatezze della cucina siciliana per quanto riguarda il folklore sono famosi i pupi siciliani sono marionette di legno colorate dipinte ispirate agli eroi dei poemi cavalereschi ascoltate non lo sapete ma fino a pochi decenni fa la gente i siciliani che andavano non dico i bambini ma proprio gli adulti anziani anche andavano ad assistere a queste rappresentazioni dei pupi siciliani e si immedesimavano nelle storie che vedevano da una parte Orlando magari e dall'altra il traditore Gano di Maganza e poteva capitare capitava frequentemente che quando compariva il pupo di Gano di Maganza il traditore venisse proprio colpito e insultato dagli spettatori quindi sono delle ricchezze queste da conservare altre tradizioni per esempio le feste legate agli eventi religiosi e alle celebrazioni del patrono locale per esempio Santa Rosalia e Sant'Agata sono solo per dirvi due di queste sante che sono le principali appunto di Palermo e di Catania se non erro per queste sante e per altri santi si svolgono feste processioni eccetera a Taormina l'ultima domenica di maggio fanno festa i tipici coloratissimi carretti siciliani tirati da cavalli riccamente bardati le possiamo vedere anche nella scenografia della famosa opera della cavalleria rusticana di Mascagni anche che sa ispirata a un racconto di Giovanni Verga è vero non abbiamo parlato a proposito in generale dell'Italia meridionale e anche di altre regioni in realtà più che magari della Sicilia del famoso struscio cioè che cos'è lo struscio si tratterebbe di un cammino di un passeggio insomma nella via principale della città che si fa generalmente di pomeriggio spesso durante i giorni festivi ma non è detto anche durante il pomeriggio dei giorni feriali in cui la gente semplicemente si ritrova chiacchiera passeggia e si fanno amicizie e si fanno incontri di ogni tipo questo per indicare anche la la vita sociale insomma di questa gente no? che è molto importante molto interessante e insomma poi vi consiglio anche di leggere il bellissimo libro Conversazione Sicilia di di Vittorini in cui descrive alcune di queste tradizioni perché il protagonista ritrova la madre e quindi un po' anche rivive ricorda il modo di vivere tradizionale nel paese che magari ha lasciato come molti hanno lasciato appunto o sono stati costretti a lasciare la Sicilia per via per esigenze di vario genere economiche posto di lavoro altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it